Ciao, sono Max Hofer e faccio il Master in Game. La consegna di questo modulo è stata rigging e animazione e il robottino di Piper in particolare. È stato un po' difficile perché a un certo punto ho sbagliato a rigare un ginocchio e ho dovuto rifare quattro gambe in due ore. Però questo mi ha dato l'occasione di imparare meglio il rigging e ripassare tutta la procedura laboriosa. E poi abbiamo animato il robottino e ho cercato di renderlo il più realistico possibile e penso di essere arrivato a un risultato per me soddisfacente. E nonostante la mia non proprio passione per il rigging, ringrazio i miei compagni decisamente più appassionati e soprattutto gli insegnanti Alex e G.